Buongiorno a tutti, benvenuti all'Asilo Nido Aquilone. Siamo Piera, Veronica e Nicole, tre educatrici e vi raccontiamo chi siamo e come sono organizzate le nostre giornate. Il nostro Asilo Nido nasce nel 1977 ed è l'unico nido comunale presente sul territorio di Seregno. È accreditato dal 2017 e si trova in via Marzabotto al numero 13. Siete pronti a scoprire quali e quante novità troverete da noi? Cominciamo! La sala Coccinelle può ospitare fino a 12 bambini di età compresa tra i 3 e 12 mesi. Le due educatrici di sala organizzano attività stimolanti per la scoperta e l'esplorazione, soprattutto tramite i 5 sensi e la corporeta. La sala Farfalle è composta da 21 bambini, dietro a compresa tra i 13 e i 36 mesi, con tre educatrici. Qui le esperienze di gioco si ampliano e si diversificano, includendo attività espressive e di sperimentazione. La sala Libello le può ospitare fino a 27 bambini di età compresa tra i 18 e i 36 mesi, con quattro educatrici. L'obiettivo è lo sviluppo dell'autonomia, favorendo così l'autostima e la crescita personale. Il giardino è uno dei nostri punti di forza. Ha una superficie molto ampia e ogni sala ha uno spazio riservato. Qui in giardino vengono svolte diverse attività, in qualunque periodo dell'anno. Al nido è presente una cucina interna. La cuoca prepara quotidianamente il pranzo e la merenda per tutti i bambini. Questo è il nostro salone. Viene utilizzato in fase di accoglienza e di ricongiungimento dei bambini con le famiglie. Viene utilizzato anche dalle sale a giorni alterni per le attività motorie. È attrezzato con diversi giochi anche per le attività di grande gruppo. L'ambientamento al nido richiede uno sforzo emotivo importante, sia da parte dei bambini che da parte delle famiglie. Avviene in modo graduale, per consentire al bambino di prendere confidenza e consapevolezza della nuova esperienza e di stabilire delle relazioni con le nuove figure educative. L'asino nido è aperto da settembre a luglio, dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 16.30. In presenza di almeno 8 richieste, è possibile prolungare l'orario di permanenza al nido fino alle 18, attivando il servizio di post-nido. Si possono iscrivere i bambini di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni. Le iscrizioni si aprono ad aprile e terminano nel mese di maggio. Entro la metà di giugno, le domande raccolte vengono ordinate in una graduatoria e i genitori dei bambini ammessi alla frequenza vengono contattati dalla nostra segreteria. I nuovi inserimenti partono a settembre e normalmente si concludono tra fine dicembre e gennaio. Per avere maggiori informazioni potete prendere contatti con Leila, la nostra coordinatrice, e consultare la carta dei servizi pubblicata sul sito del Comune di Seregno nella pagina dedicata all'asino nido comunale a Quilone. Vi aspettiamo!